Qua è alimentata ignoranza il salto Uno Allora Vai, vai, vai Si è staccato una molla No È morto No, no Devo fare 30 km per andare a casa Si va bene ma Ah è attaccato lì Quindi è molle wifi Molle wifi No Come hai fatto a spaccarsi? Eh Sto andando Ah ok Si però È un po' rischio Un po' rischio Ma su YouTube vero? Si Non vuole più andare Sono caduto oggi Quindi C'è qualche problema No Devi andare con l'aria tirata Perché Mi so che se no È bello sto scooter Ma fa davvero che è bello Die E' bello che è un po' rischio Che si è bello nocchi Grazie.